Io penso che prima delle prossime amministrative questa proposta può essere legge, stabilire un doppio controllo sullo statuto da parte della Corte di Cassazione, vita interna trasparente e democratica, sui conti da parte della Corte dei Conti, stabilire principi come il 5% destinato alla formazione dei giovani amministratori, obbligare i partiti a investire sui titoli di Stato italiano, sono cose tutte importanti. Noi non ci rassegniamo a poter fare queste modifiche sulle riforme costituzionali a cui deve seguire la legge elettorale, non siamo per l'obiettivo minimalista, non vogliamo neanche prendere in considerazione l'ipotesi di non rifare la legge elettorale, la legge elettorale si deve rifare, ma poiché i tempi ci sono ampiamente oggi, non ci saranno tra tre mesi, per fare le riforme anche minimali della Costituzione, noi pensiamo che questo deve essere il primo passaggio. Questo testo io l'ho fatto già avere sia a Bersani che ad Alfano ieri, perché noi lo presentiamo ufficialmente nella giornata di oggi, ma ci auguriamo che si possa realizzare una corsia preferenziale su questo tema, tra i partiti che sostengono il governo, ma anche tra i partiti che non sostengono il governo, ma che hanno come noi interesse a un processo di trasparenza e di chiarezza in ordine al principio. Il principio è l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, che dispone, come tutti i cittadini abbiano diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere col metodo democratico a determinare la politica nazionale. La crisi dei partiti, la crescita dell'antipolitica non ci fa cambiare idea sul fatto che non ci sono alternative in nessun paese democratico, ci sono alternative credibili salvo quella dei partiti per concorrere alla vita delle nazioni. L'antipolitica si nutre anche dei ritardi e dei difetti della politica, ma in nessuna parte del mondo si è costruita una risposta diversa a quella che è la vita dei partiti per concorrere alla democrazia. C'è stata una deriva populista, c'è stata una deriva lideristica, la deriva lideristica tante volte si è trasformata in deriva padronale, direttore. Ecco perché personalmente mi piacciono anche partiti che non abbiano bisogno di nutrirsi di leadership, perché i leader a partire dal sottoscritto passano, i partiti se hanno idee rimangono. Primo, questo disegno di legge prevede che i partiti che vogliono accedere ai rimborsi elettorali e a ogni forma di provvidenza pubblica diretta e indiretta debbono munirsi di statuti che recepiscono il metodo democratico. Se si prendono soldi dallo Stato, si deve avere una chiara trasparenza nella vita interna, se no si rinuncia a prendere risorse dal pubblico. In che modo però gli statuti dei partiti debbono essere in qualche modo corrispondenti a questi principi? La proposta di legge attribuisce alla Corte di Cassazione il compito di omologare gli statuti dei partiti che dopo tale verifica acquistano anche personalità giuridica. Dopo l'omologazione, lo statuto del partito viene depositato presso i due rami del Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il disegno di legge prevede che i partiti cessano di esistere ai fini dei rimborsi elettorali se non presentano proprie liste alle elezioni politiche nazionali ed europee. In questo caso, se un partito smette di esistere perché non presenta liste alle elezioni politiche europee il suo patrimonio acquisito dallo Stato che lo liquida secondo le regole del Codice Civile. Il disegno di legge dispone che per accedere ai rimborsi elettorali e alle altre provvidenze pubbliche, dirette e indirette, i partiti devono sottoporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi e i rendiconti dei rimborsi elettorali al controllo della Corte dei Conti e depositarli una volta approvate presso i rami del Parlamento. Allora abbiamo un doppio controllo, un controllo della Corte di Cassazione sullo statuto dei partiti e un controllo della Corte dei Conti sui rimborsi elettorali, bilanci dei partiti annuali, consuntivi e rimborsi. I beni mobili e immobili dei partiti devono essere intestati ai partiti stessi. Non ci possono essere intestazioni a persone fisiche diverse da quella che è l'intestazione alla persona giuridica dei partiti. I titoli di credito intestati al partito devono essere nominativi. E questo è un altro principio importante, se i partiti vogliono investire la propria liquidità, e in tante circostanze è giusto e anche opportuno che lo facciano, possono farlo esclusivamente in titoli di Stato italiani. Comprano botte CCT, mi sembra una cosa saggia. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5% dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali. Infine, l'ultimo tema. Tutte le donazioni superiori a 5.000 euro devono essere rese pubbliche e le contribuzioni superiori a 50.000 euro che eventualmente i partiti dovessero fare a società o fondazioni, obbligano quest'ultimo a sottoporre il proprio bilancio al controllo della Corte dei Conti. Io, partito politico, do un milione di euro a una fondazione? Lo posso fare, ma immediatamente il fatto di dare un contributo superiore a 50.000 euro a fondazioni o associazioni fa sì che queste ultime rientrano nel controllo della Corte dei Conti, cioè estendiamo il controllo della Corte dei Conti dai partiti ai beneficiari dei soldi che eventualmente vengono ricevuti dai partiti. Guardi, io non conosco persone che non debbano chiedere scusa di qualcosa e pertanto penso che i partiti politici e a loro andrebbe applicato allo stesso metro che applico per me come persona, come padre, come cittadino. Detto questo, c'è soprattutto un rammarico che questa legge andava fatta prima, non sull'onda di fatti specifici o di emergenze emotive, peraltro derivate da fatti oggettivi. Questa legge andava fatta prima, quando Dalia presentò questa proposta di legge due anni fa, forse era già tardi, nella Costituente si è parlato molto di come disciplinare la vita dei partiti politici e chi ha in qualche modo colto idealmente l'eredità di Sturzo aveva forse delle responsabilità suppletive maggiori rispetto agli altri. In questo senso certamente ho da chiedere scusa al fatto che non ci siamo prima posti il problema di una regolamentazione dei partiti politici in questo modo, prendono soldi dallo Stato, prendono soldi in base ai voti ricevuti, questo è un fatto che si capisce, perché se no la politica sarebbe solamente di chi se la può consentire sotto il profilo economico, ma bisogna dare qualcosa in cambio, che non è solo la presenza nelle istituzioni, ma che è anche e soprattutto una trasparenza nella vita interna e una democraticità interna dei partiti, se no si sostituiscono ai partiti tradizionali i partiti padronali. Ho avuto modo di chiarire, tutto quello che fanno PD e PDL per noi va bene, deleghiamo a loro la nostra rappresentanza, adesso siamo incerti se a Bersagno dal fanno delegato, ma adesso ci dobbiamo pensare. Ma comunque l'importante è che questa cosa venga prima delle prossime elezioni, evidentemente, e oggi devo anche dire che è importante concretizzare quel passaggio, riforma del bicameralismo, taglio subito di cento parlamentari, revisione dello statuto dei partiti politici, non sono cose meno importanti della legge elettorale, legge elettorale che restituisca ai cittadini la possibilità di scegliere i suoi parlamentari, voi sapete che a noi ci piace la legge proporzionale tedesca, ma poiché sembra che piaccia solo a noi siamo disponibili a compromessi.